Settimana di Diego Armando Maradona, la decima settimana della ventesima edizione dello Sbordone League, nove appuntamenti in programma, si comincia come sempre sul centro sportivo San Rocco alle ore 17 con l'Under League, il match tra Inter Navas e Galacticos, saranno tre match in singola, quella delle 17, delle 21 e delle 22, nel mezzo poi le contemporanee delle 18, 19 e 20 e allora meno tre settimane dalla fine delle regular season, ancora con i tre gironi Elite, Major e Under tutti aperti, nessuno ancora è sicuro di mettere le mani sul titolo di Lega, e allora in Under League, girone che comanda la formazione IFCP, vittorioso anche nell'ultimo turno settimana scorsa, 17 punti conquistati, a 16 la sale unitana, distacco di 4 punti dalla terza le Schilmeland con 12 punti e 6 sfide, quindi una in meno rispetto alle prime due. Galaxy e Inter Navas seguono con 10 e 9 punti, 8 punti Betullo, Galacticos sono a 7, Hydra e Vele 4 e 3, zona Champions per adesso Schilmeland con 12 punti, 6 partite giocate. La squadra dell'Inter Navas può ancora sognare l'ingresso nelle prime tre, così come i Galacticos che hanno due partite da giocare, possono ancora totalizzare 13 punti e le Schilmeland ne hanno 12. Formazioni per i Galacticos che arrivano da un grandissimo momento, due vittorie consecutive, hanno lanciato la squadra da 1 a 7 punti, calcione e qua punizione. Per la squadra allenata da Mister Capasso, che non è ancora arrivato sul... Manterboso, Signorello in porta, Vollero al centro, ai lati Vitiello e Ottico, centrocampo con Reale, Gigi Capasso e... Un uomo in meno, perché Peppe Capasso non è ancora arrivato, sì sì. Colpo di destro, di Guzziello, tira di destro, parata di Signorello, non me ne ero accorto che i Galacticos hanno cominciato questo match con un uomo in meno, eccolo là, Peppe, che ha fatto tardi col Mister, quindi avevano iniziato in 6 uomini e avevano fatto due linee da 3 i ragazzi in casacca gialla, Internavas, sono in 11 quest'oggi, comincia Romano in porta, anche se non vedo proprio Di Martino, quindi sarà un portiere solamente quest'oggi per Mister Falco, al centro armonioso, ai lati due fratelli Ciccariello, centrocampo con Puziello, Antonio Esposito e Pezzullo, in avanti Pisano a disposizione ci sono Caetano Castellano, anche io l'ho fatto un po' tardi, c'è Puglia e c'è un giocatore nuovo per la squadra di Ciccariello Capitano, allenatore Marco Falco, tre in panchina, colui che ha la casacca blu, lì tutto a sinistra, Franco Attilio Puglia, dobbiamo vederne le denominazioni, qui punizione, e allora armonioso Gioca per Puziello, il taglio, c'è una deviazione sul passaggio, Vitiello che prova a uscire, probabilmente salirà a centrocampo perché adesso Capasso si posiziona terzo a sinistra, scambio di Vitiello, la porta su, prova a vincere un contrasto, poi prova a rubare qui un altro metro per il suo compagno, Pisano in contro, eccolo mister Capasso, appena arrivato, 0-0 e partita iniziata da quattro minuti, imbucata di Peppe, Capasso, presa di Romano, e allora in manco l'ultimo nome dei Galacticos che non avevo detto, quindi gioca nel, un attacco a due, un 3-de-2, quindi Vitiello reale a centrocampo, manco Gigi Capasso in avanti, qui Ciccarello spedisce in avanti. Buona la serzata di ottico per evitare un avversario, Vitiello si allunga troppo, Pisano per Pezzullo, prova a chiudere Vollero, che oggi è in prestito ai Galacticos perché la partita del Wimbledon, era le ore 22, lui domani mattina si deve alzare presto per andare a lavorare, ha detto voglio giocare, ma nel primo pomeriggio, non nel tardo, allora Vollero dal Wimbledon in Elite, ai Galacticos in Under, serviva un uomo a Mister Capasso, reale per Gigi, tocco dietro per Peppe Capasso che prova a pennellare, domenica 8 maggio, la festa della mamma, noi facciamo gli auguri a tutte le mamme dei nostri ragazzi sbordoniani, domenica che promette qualche accenno di pioggia, forse anche qualche sfuriata, avaria, speriamo che il nostro programma non verrà rallentato per qualche acquazzone di troppo, ce l'auguriamo che non vi manca a piovere, cicca, vediamo Puzziello, prova morbido nel box, allontana ottico, manco, via così, verticale per Gigi un po' lunga, Romano, mano in avanti, con le braccia aperte Vollero accompagna Pisano all'uscita, poi c'è una mano e c'è punizione, fa la lunga di Vollero, prova a spizzare Vitello, che non colpisce, di caccia Puzziello, c'è una tripla deviazione, c'è il corner, e allora Puzziello qualche problema per Peppe Vollero, questo un po' di occhi addosso al povero Peppe, che è uscito un po' malconcio da quel contrasto, palla dentro colpo di testa doppio mano, di armonioso, e allora Reale gioca subito ma tutto fermo, tocca Vitello nel mezzo, dove viene incontro, bene, manco, Reale, tocca dentro ancora, Ciccarello Junior recupera, ancora Reale, gioco di gambe, sinistro schermato e allora prova a ripartire, Puzziello a destra, piedone di Capasso, che sbara la strada, rimessa laterale per la squadra, in maglia blu, oggi un po' misti, con poietini che iniziano a mancare, tra i giocatori, che ormai nell'internava, stanno sicuramente modificando la loro rosa da un'edizione, anzi questa è la terza edizione qui da noi, ovvero seconda, e sono cambiati tantissimo rispetto al loro esordio, chi non ha il completino, non è colui che è partito nella prima giornata della precedente edizione, capitanata da Ciccarello, stiamo parlando di Puzziello, Antonio Esposito, armonioso, che hanno tutte le magliette diverse, qui Pisano, buona la ruleta e la sterzata su Gigi Capasso, inbucata che non passa, contropiede Galacticos, Vitiello, Murato, manco, raccoglie, finta il sinistro, prova col destro, a saltare l'uomo, la mette in mezzo, la buca Ciccarello non la trova, Vitiello, la palla scorre, le mani di Ciccarello, Antonio Esposito incontro, la palla esce, rimessa Galacticos, sbaglia la rimessa, Pappela Passo, Ciccarello la rimessa, qualcuno che dà suggerimenti su come batterla, ginocchio di Pisano, allunga Puzziello, palla che torna a lui, salta Antonio Esposito, si inserisce, Fusiello, Signorello, per far rima, blocca. Sinistro in avanti, spizzata, palla che scorre lentamente, nell'angolo, ritmo che ancora non decolla, sono ancora in fase di studio, due squadre, Pezzullo spinge, poi occhio a questo pallone, che improvvisamente diventa quasi buono per Pezzullo, ottico, prova a partire, sprintando dopo la chiusura, manco, indica la via, poi rallenta, poi ruleta, non la perde, la tiene, mette in mezzo, c'è il sinistro di Vidello, è la parata di Romano, che salva la porta. Vidello fuori, prova ottico, murato, mani di ottico, Vitiello da fuori, prova il palleggio, salta armonioso, subentra Reale, che in qualche modo riesce a crossare, colpo di testa, ancora di Vitiello fuori, adesso prova a schiacciare all'angolo l'avversario, la squadra in casacca gialla, mussando la porta di Romano, che va in avanti, ripiona solamente per un secondo, Antonio Esposito. E allora, manco sulla corsa per Reale, Romano in uscita, Reale la tiene in campo, Romano, non so, drift, poi, fondo, no, angolo. Batte Reale, attaccano Vitiello, e Gigi, poi a capasso, balla troppo forte, scatta per battere, Ciccarello Junior, invece chiede calma, armonioso, Ciccarello Junior, lungo linea, ottico buca, Pisano raccoglie questa sfera, in mezzo a due, recupera Vitiello, subisce anche un calcio, passa in mezzo a due, poi tocca la sfera, Reale, finta di corpo, va in porta Reale, Romano smanacciata, pin, alto, di Vitiello. Per adesso, ancora nessun tentativo di Gigi Capasso, sicuramente il più pericoloso, della squadra, dei Galacticos, per gol segnati, ne conto cinque, vediamo un po', vediamo un po', se ho sbagliato, segue sinistro, e palla sul fondo, sette gol segnati da Capasso, stavano andando a controllare, tre gli assist, per il centrocampista totale, in casacca gialla, un po' di commento, questo è bello questo cappello, voglio spiegare dove comprare, il cappello, perché ti guardi il marsupio? No, ho fatto così, per mostrarlo meglio, ai nostri telespettatori, non sono telespettatori, come si chiamano? PC spettatori, Castellano, per Pisano, che punta, e va col destro, sbloccando il match, al primo tira in porta, Antonio, Internavas in vantaggio, 1-0. Ha Pisano capocannoniere, l'Internavas? Sì, dovrebbe essere il decimo centro. Un giocatore straordinario, e ti dirò di più, l'anno scorso non era così in forma. Vabbè, ha preso anche un po' le misure, poi è diventato anche grande fisicamente, 8 golli, non 10. Questo è l'ottavo di Pisano, è diventato più grande fisicamente, secondo te è stata la maturazione fisica, e lo sta aiutando a trovare più spesso la strada del gol. Secondo me sì, regge tanti urti in più rispetto alla scorsa edizione, che era molto molto più minuto, visto quanto è diventata una bestia. Mi farei attenzione però, perché la partita, cioè i Galacticos sono una squadra storica. Stavano dominando. Eh, ma per questo continueranno a farlo, secondo me. Però l'Internavas è una squadra che ha imparato a soffrire. Forse è un'altra caratteristica, che questa squadra ha maturato. ti sei perso uno show. Che è successo? Eh, io l'ho preso però. Uno show di Ciccarello, una rimessa laterale lisciata, dal contrario, non so come ha fatto, però la dobbiamo tagliare, perché è stupenda. E allora clamorosamente internavasse in vantaggio, sui Galacticos, e fino a questo momento stavano controllando il match, comandando il campo, e provando a segnare. Qua Pisano viene maltrattato, punizione. E allora ultimamente ha provato più volte, da questa posizione qua a Castellano, sfiorando la traversa, in un paio di circostanze. Vediamo un po', si troverà più fortuna. Sul fischio di Lanza, si coordina Castellano, destro, a giro, che scheggia di nuovo la traversa, come settimana scorsa, o due settimane fa. Adesso vado a pressare, Vitiello. Quindi contromanco. E allora gioca tutto di là, per Peppe Capasso, che avanza. Gioca al Reale, che alza un campanile, difficile a gestire per Gigi, la palla era uscita. Rimessa. Ottico, su questo pallone vagante. Sale, con una buona giocata, deviazione di Ciccarello Junior, arrivato anche Josué, che vi trerà nei match di Elite. Vitiello controlla, serve al limite dell'aria. Manco, per Gigi, tutto chiuso. Allora Reale, gioca ancora, per Ottico, tutto solo. Finta il destro, rientra col sinistro, chiude, Cuciello. Ottico, più dietro. Le mani di Ottico, morbida, salta bene armonioso. Poi occhio a Castellano, a questo lato, che punta, Pollero, gli tira addosso. Signorino, accoglie. Ottico lungo linea, Manco, mette il piede armonioso, Castellano, recupera in qualche modo, Ottico. Entra dentro al campo, punta la porta, contrasto di Cusiello, Ottico spinge ancora, recupera Gigi, una mattonella, per calciare lo fa, Romano si abbassa. Poi la palla clamorosamente, che arriva dalle parti, Castellano, che punta la porta avversaria. Deviazione, testa di Pisano, petto di Gigi, Capasso, piattone, per Manco, spedizione di là, che però, non arriva al piede di Vitiello. Spinge un po', Capasso, punizione. Ancora una volta, Castellano, col destro. Sta studiando un po', se ci mette all'esterno, o all'interno. Vediamo, va d'interno ancora una volta. Solo tempo arriera, prova forte dentro, Vitiello, Mura, allontana Capasso. Le mani di, Gabri, Cicca, testa di, anzi Muso, direi, di Pisano. E' tale che, ottimamente aggancia nel, nella mediana, della sua squadra. Poi porta su, e su lo recupera. Gioca a Castellano. Sterzata. Ottico manda a quel paese, qualcuno dei suoi compagni, mentre rientra. Destro di Puziello, Murato, Gigi raccoglie. Verticale, subito per Manco, esce Romano, la perde. Ancora Manco, cross di sinistro, diventa quasi un tiro, Vitiello. C'è un lancio lungo, la testa di ottico. Petto di Manco, testa, resiste, mette giù, spinge. Ancora rientrare sul mancino, cross di nuovo disegnato alle parti di Vitiello, ma la palla schizza. Troppo. Le mani. Vitiello che recupera questo pallone, non agganciato all'avversario, se ne va. Ancora resiste. Tocco dietro, passo, non importa, Murato, Reale, tocca, Gigi, scivolata sull'uomo. Punizione. Potrebbe essere una delle mattonelle preferite di Gigi, perché quando si tratta di punizione, col destro, è sempre un pericolo, Romano altissimo, Castellano sul palo, poi si mette dietro, e poi prova sotto Gigi, ma non passa, armonioso, fonte. Sale Pezzullo, gioca il pallone di sinistro per Pisano, che sposta bene per Castellano, arriva ottico, che poi ingrana la quarta, accelera, è pericolosissimo, però sprintare là, la rimessa è sua, manco spinto un po' di armonioso, punizione. Di nuovo no, c'è ottico stavolta, sul punto di battuta, lasciato l'incarico, da Gigi Capasso, sempre tre in barriera, dinamico, Castellano sul palo, chiede Falco, Gigi davanti, ma sta bene, è fuori l'area piccola, sta bene lì Gigi, occhio a quella spinta di Romano, basta che non mette i piedi sulla linea, ancora Romano, vediamo un po', c'è la battuta in porta, devi accendere Romano, calcio d'angolo, battuto, reale, sbaglia, c'è Castellano, affari spenti, che ruba questo pallone, tre contro tre, gioco, pallone largo per, Pisano, tacco, angolo, battuto, Puziello riceve, uno due con Castellano, attende l'arrivo di qualcuno, alza la testa, cerca spazio, tutti molto fermi in mezzo al campo, in questo momento, Voller allontano, armonioso, ancora Puziello, contrasto di Gigi, portapalla, Vitello, un po' d'esterno per Manco, ma la palla è troppo lunga, Schimmialand, Hydra, stanno per, cominciare il match delle ore 18, sull'altro campo, il primo tempo, qui, si conclude, 1 a 0 Internavas, sui Galacticos, Sì sì, tutto pronto per la ripresa, i Galacticos sono a 0, Internavas a 1, battono i ragazzi Capasso, in casacca gialla, tocca, Manco, vediamo un po' cosa stanno inventando, palla a Vitello, chiuso, rimessa battuta, Reale, male, e allora, rimessa che porta il pallone alle mani Signorello, che allarga verso ottico, scende, con pallone lungo linea, spedito, occhio a Reale, che si coordina per un tiro, fintato, Manco, arretra un po', 2 su di lui, c'è anche Puglia in campo, Pezzullo mette in corner, non è ancora entrato il nuovo acquisto di Internavas, è entrato invece Puglia, c'è il calcio d'angolo battuto a Reale, Puglia proprio sul pallone, al volo Vitiello, ma non a tiro mano, che in due tempi raccoglie, rimane avanti con le mani, ottico col sinistro, rispedisce al mittente, un po' di testa di Pezzullo, così e così, calcio d'angolo, calcio d'angolo per i Galacticos, allora Gigi fuori, ottico controlla, finta, Puglia non casca, Pisano, ancora ottico, ancora Pisano, sbuca Capasso, palleggia per, Vitiello che si coordina, Manona di Romano, gran parata, paratissima direi, sul tentativo di Vitiello al volo, e allora, di nuovo corner, di nuovo corto, manco per Gigi, che cerca il corridoio, e poi la conclusione di Reale, la palla che carambola, a destra e a sinistra, c'è un altro tiro, la testa di Ciccariello, la palla che, arriva sul cosciano di Puglia, che prova a spingere su, recupera, lotta, di nuovo, e c'è un calcio di punizione fischiato, fallo sul Puglia, battuto, il calcio di punizione, Pezzullo, punta l'uomo, lo salta, destro deviato, incrocio, scheggiato, e calcio d'angolo, di nuovo Puglia, dal corner, Pisano che attacca l'aria, forte in mezzo, Vollero mette il piedone, abbiamo riposizionato, il nostro vecchio cartellone, ne abbiamo persi tre, nel periodo Covid, uno era bellissimo, pace all'anima sua, armonioso, occhio a questo retro passaggio, killer, Castellano, poi mette il piede Pezzullo, occhio, scena horror, in difesa in questo momento, l'Inter Navas, poteva costare caro, non è successo, niente, ottico controlla, così e così, passa due volte, anche la terza, poi prova Capasso, sbilenco da qua, ma diventa un cross, Romano la legge male, Reale primo traversone, respinto, Manco, si coordina sempre col sinistro, testa bassa, ancora Manco, esagera un po', tocca la sfera, Capasso, male, poi Ciccarello che prova, uscire benissimo, tre contro due, Castellano che punta la porta, non importa, Murato a Vollero, poteva far meglio, così lo raccoglie, al fiatone di Vitiello sulle spalle, che mette un piede, scappa Reale di là, scatta Capasso, invece da questo lato, mette giù, Puglia, Capasso con le mani, Reale, sceglie un cross, Romano, con la manona, recupera la posizione, che di partenza, era diventata troppo avanzata, per quel pallone, per bloccarlo, quasi in controtempo, riuscito però, con un guizzo, a recuperare, Capasso in mezzo, missile, allungato, Ciccarello anticipando Vitiello, Romano che contempla sul palo, Vitiello con le mani, Capasso non marcato, si prova qualcosa, rimane incastonata lì, quella sfera, allontanata da Puglia, Signorello in avanti, Reale prova un controllo a seguire, Pezzullo, sulla sfera, protegge l'uscita di questo pallone, Internavasca una settimana fa, hanno giocato contro la prima in classifica, gli FCP, rimanendo sotto una zero, praticamente tutta la partita, pareggiando a tre minuti alla fine, facendosi poi segnare, nell'azione seguente, Vitiello, finta poi, spinge troppo su, Capasso con le mani, Gigi Capasso invece, se ne va su Puglia, mette in mezzo di sinistro, armonioso, di testa allontana, Capasso ancora per Vitiello, che si coordina, cerca un tiro cross, Pugliello allontana, poi timidi, Internavas, Vitiello prova a sfondare, manco con Ruleta, ancora manco, sinistro, palla in rete, super gol di Manco, dopo una Ruleta, conclusione, impeccabile, spara un missile all'incrocio, pareggio Galacticos, uno a uno, contro Internavas, prova subito a reagire la squadra, in casacca scura, Gaetano che punta, Vitiello che recupera, e poi Reale, sterzata di Ottico, che torna da Reale, spinge su, Banfella per Capasso, Sciccarello riesce a recuperare la sfera, Antonio Sposito, Puglielo, punizione, armonioso, Sposito, ancora a bordo campo però, il nuovo acquisto internava, Spistefalco non l'ha inserito, ancora, Ottico prova, Romano per Esposito, Sciccarello, prova a uscire col palleggio, la squadra è Maia Blu, forte però il passaggio del capitano, si batte con le mani, poi allontana, armonioso, palla che cade alle parti di Pisano, contro Vollero, Mani, colpo di testa, e palla sul fondo, Gigi Capasso, che allarga di là, Ottico sulla corsa di Reale, che tocca per Manco, che mette la punta del piede, ma non riesce a impattare, angolo per i Galacticos, cross, secondo palo, Antonio Sposito di Via, arriva Vitiello in gran corsa, riesce con un tocco sotto, a saltare nettamente l'avversario, a mettere in mezzo col Mancino, svirgola ammonioso, Antonio Sposito corregge, per Puziello, che scappa lì in mezzo, già rincorso, poi Pisano, sbaglia, il passaggio, si va con le mani di Castellano, colpo di testa di Vitiello in uscita, sfondamento centrale, pallonetto per Manco, che in qualche modo mette giù, Puziello raccoglie, chiedono una mano, i ragazzi dell'interno avasso, manco curta, per Reale, controlla, chiude Pezzullo, contropiede, c'è Castellano sulla sfera, che ha provato a centrarsi, con una serie di finte, riesce, contrasto perso con Gigi Capasso, che mette il pallone su piedi, Manco rientra, pallonetto dietro, ottimo, di nuovo lungo linea, piedone di Pezzulla, Reale, centrale, Manco, Pisano raccoglie, poi prova a piazzare, Pollero col di dietro, Pezzullo, Pisano per Castellano, triangolo Pezzullo se lo mangia, e poi Esposito, svirgola, laterale, rimessa laterale, battuta la palla che cade nell'aria, ottico male, Castellano alza, Castellano prova il sombrero, allunga però, Antonio Esposito, recupera, Peppe Capasso, tirato, c'è fallo, c'è giallo però, Reale, alta, fuori camera, Castellano resiste, poi tocca, contrasto di ottico, uno a uno, sempre il risultato, tra Galactico, Center, Navas, prova Reale, centralmente, serie di finte, affida a Capasso, che sposta di nuovo per Reale, la testa va in porta, pennellato, Romano, l'ha presa due volte, calcio di punizione, ha fatto un macello lì, Romano, punizione, vediamo un po', perché ora si tocca la sfera, guarda che stiamo anche già giocando, se nessuno va avanti a questo pallone, si segna avanti, stanno completamente dormendo, internavassi, ne nasce una munizione in due, per fortuna gli internavassi, Galactico sono all'anno, giocata in maniera rapida, anche loro un po', si sono distratti su questa giocata, il pallone è rimasto a disposizione, il battolo veloce, 1-2-3 stella, va giù Romano, ma non si può avanzare, bisogna rimanere incollati, sulla linea di porta, fino al tocco, parata di Romano, due volte, recupera la sua distrazione precedente, è stato colto in un momento, si allunga il controllo, Gigi Capasso, poi la palla torna a Castellano, a disposizione di Esposito, rivista anche la situazione in area di rigore, degli internavassi, la parata di Romano, sulla connessione, l'abbiginata, c'è la mano qua, non sono però convinti, ragazzi di internavassi, questa qua stava girato, Puzzillo ha colpito sotto al gomito, quella alla precedente, dicevamo Romano salva, con la manonna alle sue spalle, c'erano due mani, una di Armoniose, una di Antonio Esposito, un altro giocatore di internavassi, sarebbe stato di rigore, se non avrebbe parato, il portiere degli internavassi, con un gran riflesso, perché poi non è mai facile subire, un tiro da quella vicinanza lì, punizione qua, sempre e solamente una a uno, il ragazzolino non entra, ancora, ottico, calcia, a giro, Capasso si coordina, poi la palla sbuca a manco, ma c'è un fallo, in attacco, armonioso, in avanti, raccoglie Pisano, anche Vittiello ha postato lì, subentra, e sale, tocca, per ottico, che salta Castellano, una finta, va lungo, linea di fondo, da Reale, che non aggancia, è una palla difficile, troppo forte, Pezzullo, Castellano, chiuso, ho capito bene se stava larga però, perché ce l'ho molto chiusa come traiettoria, qua invece, Puzziello, cazzo, stavo qui, le mani di Reale, petto di Gigi, alza dentro per manco, piedone di armonioso, stanno per svettare in due, nessuno però va in maniera decisa, Pisano che lotta con ottico, subentra Reale, poggia timidamente, Pisano, punta, vada Castellano, 1-2, Capasso, metto il piede, Castellano dentro, Volero, non la trova, Pisano la punta, Vittiello, conquista una rimessa, le mani all'indietro, Capasso, morbida in avanti, manco di petto, affida a Vittiello, verticale, Reale, piede di armonioso, poi manco, ancora, a fare piede perno, affida a Gigi Capasso, calcio di rigore, ha battuto la Ciccarello, nettamente, fa dritto sull'uomo, tra l'altro, lo fa anche male, ginocchio centrato in pieno, Reale contro Romano, vediamo un po', non trattiene, il pallone, non riesce nemmeno a respingerlo, segna Reale, fa 2-1, battuto il, gol del 2-1, i Galacticos ribaltano questo match, ci hanno messo veramente tantissimo, l'Internavas, sta giocando comunque una grandissima partita, si stanno equivalendo le due squadre per larghi tratti, aveva dominato i primi 7-8 minuti, la squadra in casa a Caggialla, nella ripresa comunque, sta mettendo sotto di più l'avversario, qui, Ciccarello, calcio d'angolo, tante volte Romano, con una manona, ha salvato il risultato, in precedenza, non ha potuto nulla, sul calcio di rigore, palla dentro, ottico subito dalle retrovie, no, manco, capasso, tocco per Vitiello, ottico, avvolgente, manovra, con calma, ora che sono in vantaggio i Galacticos, manco, punizione, manco col sinistro, prova, la palla viene salvata sulla linea, e poi, paratona di Romano, mancano, credo più o meno 5 alla fine, palla a capasso, alza, troppo, lancia in avanti, Pollero, Gigi, capasso, arma il destro, che arriva ora alto, Pezzullo, apre, Sposito, Puziello, dentro chiuso però, da Gigi Sposito, Vitiello ancora a raccogliere, sterzare sul destro, passa, Vitiello, parata di Romano, Almonioso, litiga con, è entrato il ragazzo nuovo, dell'Internavas, un po', Cascio, che appena è entrato, per i ragazzi, dell'Internavas, Maya Bianca, con casacca blu, Castellano, prova, tiro cross, ginocchio di Pollero, manco attaccato, punizione, si temporeggia un po' su questo calcio di punizione, Castellano, due in barriera, Signorello, dirige, anche Mister Capasso, quasi sulla linea di porta, osservare, la palla è per lui, fondo, sale Vitiello, spicchio di sole, adesso al San Rocco, per fortuna, ottimo che sterza, poi entra in aria, e poi va col destro, ci fanno prima, Capasso, quattro in barriera, tocco al primo palo, mazzata, risposta da Pezzullo, angolo, Capasso la tiene lì, incollata, andiamo al fondo, mi sa, l'ultimo tocco, il suo di suola, Armonioso Romano, iniziava una specie di danza, Boudou, verso il pallone da Castellano, morbida dentro, ma ancora non arriva, chiamalo in the box, Falco, perché ormai manca veramente, qualche secondo, lancio di Armonioso, Vitiello di Pettore, spinge su Bentra Reale, mette fuori, triplice, fischio, 2 a 1 Galacticos, sull'Inter Navas, con la squadra di Mr. Capasso, che si lancia, in zone alte, della classifica, 10 punti conquistati, Romano Vitiello, i migliori di questo match, tra i migliori di questo match, perché, ovviamente, c'è il capitano, Gigi Capasso, partiamo prima da Romano, Romano, avete tenuto il risultato, in vantaggio, per tantissimo tempo, senza però, mai riuscire a chiudere questa partita, alla fine, il rocambolesco, 2 a 1 subito nel finale, un po' come la sfida, i FC Pino, questa squadra fatica, a trovare il gol, lì davanti, oggi, una bellissima prestazione, da parte tua, perché, sulle due reti, sei poco responsabile, ed è una delle prime volte, dove i portieri, Inter Navas, non hanno assoluta responsabilità, su quello, quindi, oggi il 7, te lo meriti, parole su questa sfida? Io penso, che potevamo fare di più, perché, comunque, all'inizio abbiamo giocato bene, abbiamo pure trovato il gol, potevamo certamente chiuderla prima, però poi sono stati bravi avversari, a crederci di più, è stato un fatto, che loro ci hanno creduto di più di noi, e hanno concretizzato, le occasioni che hanno avuto. Come diceva Ciccarello, la settimana scorsa, non ci credete, in tutte le sfide, al risultato? iniziamo, forse, iniziamo con la grinta, comunque, con la voglia di vincere, e di concretizzare, però poi, alla fine, non lo facciamo, cioè, questo ci manca a noi, forse, è il crederci di più, che poi alla fine, noi siamo riusciti, a portarci in vantaggio, però, abbiamo tenuto a poco. Vedremo cosa farà, nell'ultima sfida che rimane, alla squadra, di mister, di mister Falch e Ciccarello, dove ne manca giusto una, per vedere come si concluderà, questa Under League, andiamo da Vitiello, salutiamo Romano, salutiamo Capitan Ciccarello, che ha osservato, l'intervista del suo compagno, e allora Vitiello, la scia continua, tre vittorie consecutive, dieci punti in classifica, Galatticos si prendono, almeno per adesso, il quarto posto, e poi vediamo, però bene, ce la possiamo fare, ce la stiamo giocando, oggi spero, secondo me, qualche errorino lì davanti, potevate fare molti più bullo, perché la partita, per larghi tratti, loro hanno giocato bene, però l'avete tenuto a voi in mano, è bene, è bene, dobbiamo fare di più in avanti, diciamo che quando Gigi, non realizza 3-4 gol, andiamo in difficoltà, ultimamente tu stai segnando, oggi più volte fermato, anche da un po' di sfortuna, e qualche intervento bellissimo, il portiere lì, sul tiravolo, la strada è quella giusta però, trovato l'alchimio di questa squadra, la squadra sta andando bene, dedica per la vittoria, a Panico che non c'è, si è fatto male, complimenti a Vitiello, complimenti a tutti, la squadra dei Galatticos, ciao Manuel, ciao Carlo,